Dopo la sentenza di primo grado della settimana scorsa, che ne sarà del complesso ex Argentina ad Arco, che venga abbattuto è improbabile. È possibile invece che la proprietà sequestrata del compendio immobiliare passi nelle mani del comune di Arco. Questo può avvenire, tecnicamente si chiama confisca, se verrà confermata la sentenza di primo grado, che anche in secondo è in Cassazione, ma è possibile che avvenga anche in caso di prescrizione, che scatta per questo reato dopo cinque anni. Ad essere eventualmente confiscate, sempre dopo il terzo grado di giudizio, saranno le parti dell'edificio attualmente poste sotto sequestro, e cioè tutti gli appartamenti del compendio, tranne quelli già venduti, perché il Tribunale ritiene che siano stati comprati in buona fede. L'Adige ha sentito tre avvocati e un architetto per chiarire gli aspetti che riguardano la prescrizione e la confisca. Tutti concordano sul fatto che occorre attendere, per metà luglio, le motivazioni della sentenza di primo grado, che il 31 maggio ha decretato che la nuova urbanizzazione, costruita sulle ceneri dell'Asburgico Sanatorio ex Argentina e di proprietà della Cosmi SRL, è frutto di lottizzazione abusiva. Sarà lì che si capirà da quando dovrebbe scattare la data della prescrizione, anche se la Procura sostiene che parte del compendio Olivenheim non è stato finito e di conseguenza, essendo quella lottizzazione abusiva un reato permanente, non scatterebbero i termini di prescrizione. Sulla sentenza di primo grado dell'ex Argentina torna il Comitato salvaguardia dell'Olivaia, una lettura che va ad intrecciarsi con la politica arcense, secondo gli ambientalisti, degli anni degli iter procedurali e che quindi coinvolge in particolare l'allora sindaco Renato Veronesi. L'iter che ne ha determinato l'autorizzazione è stato a lungo e ha coinvolto molte persone. Al di là delle responsabilità penali accertate dal giudice, vogliamo parlare di quelle politiche che appartengono tutte a chi in quegli anni amministrava. Da qui il nome di Veronesi, che a detta del Comitato avrebbe un ruolo primario in quell'annosa vicenda dell'ex Argentina. Quello che auspichiamo, concludono quelli del Comitato, è che Veronesi non si occupi più della cosa pubblica o di edilizia, tantomeno ora che è al vertice della municipalizzata di Arco, che proprio ora in Consiglio Comunale sta per approvare il nuovo piano di recupero dell'Infano.